In tema di diritti umani non bisogna mai abbassare la guardia, dirò il ministro dell'interno a piante dosi intervenuto alla presentazione del report Oscar sui contrasti ai crimini d'odio. Dallo studio emerso che solo 20 stati hanno organismi di polizia specializzati nel contrasto dei crimini di odio. In numerose realtà nazionali sono in corso processi di riorganizzazione. L'evento è stato organizzato a Roma in occasione del 25esimo anniversario dell'approvazione dello statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.